partiti cavalli della quinta corsa esce scosso firion mario sanna è rimasto nelle gambe di partenza dovrebbe essere tutto ok per lui parte molto forte amaranto che si porta in vantaggio e addirittura viene disturbato dallo stesso firion e deve allargare tantissimo allora davanti ci si ritrova ancora lui nonostante tutto in seconda posizione cacciante che ha preso una buona scia dopo un numero di gabbia largo dopo partenza con numero di gabbia largo in terza posizione c'è zingaro in quarta c'è morgul il debuttante in quinta zenti in sesta posizione troviamo built for speed poi witz a chiudere il gruppo a ilionora e nitrodi l'andatura in questa prima fase è stata abbastanza svelta complice anche il disturbo di firion alla fine davanti ci si trova amaranto che è in vantaggio nei confronti di zenti in terza posizione c'è cacciante all'interno in quarta troviamo zingaro in quinta il debuttante morgul all'esterno c'è la giubba nera che è quella di witz all'interno troviamo anche built for speed poi a ilionora e nitrodi siamo addirittura d'arrivo 450 metri da percorrere con amaranto ancora in vantaggio attaccato all'esterno sia da zingaro ma soprattutto da cacciante gli altri che devono venire avanti in particolare built for speed morgul e anche a ilionora ma cacciante in questo momento è passato definitivamente in vantaggio cacciante che adesso allunga ulteriormente quando mancano 200 metri dal traguardo amaranto che si mantiene in quota zingaro che ci prova morgul che prova a venire avanti ma cacciante al secondo tentativo sigla e vince facile nei confronti di amaranto e zingaro buona la seconda dunque per il numero 4 dello schieramento cacciante il figlio di night of thunder una quota di 1,95 torresulas in sella numero 4 dello schieramento a segno il training è quello di agostino affè i colori sono quelli di antonio di carlo 4 al primo posto a secondo numero 2 amaranto e per il terzo lasciamo che arrivino le immagini per il terzo rinvenuto zingaro quindi numero 10 numericamente 4 2 10 è un ordine d'arrivo provvisorio ufficioso della quinta da capanelle è tutto grazie a tutti